E allora ve la voglio far trovare perché è qua dobbiamo scatenare l'inferno al Gazzalatiater per l'ultima volta il nostro cielo è sempre più più e allora batti le mani come fa? è il cielo è il cielo è il cielo ragazzi più forte è il cielo è il cielo ultimo fortissimo come fa? è il cielo e adesso cantiamo con sop 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 Grazie a tutti. 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 A chi l'ha letto e non va a dormire. Ciao ragazzi.